Il vostro parere Bassetti è guerra perché poi arriva da Fabio Massimo Castaldo e casomai ha qualche link in più di noi con il governo e ci dice secondo lui come andranno le cose. Bassetti, prego. Allora, io non voglio criticare nessuno, però io sono quattro mesi consecutivi che continuo a dire che bisognava preparare una campagna vaccinale ancora più coraggiosa di quella che abbiamo preparato. Io sono dal principio per la copertura universale come ha detto giustamente lei, cioè più persone si vaccinano al di là di quelli a cui ho offerto gratuitamente meglio è. Se è vero quello che anche a me risulta perché stamattina anche a me hanno chiamato almeno due pazienti dicendomi che hanno provato a comprarlo in farmacia e gli è stato detto che non ce ne saranno, se fosse così questo è gravissimo perché vuol dire che noi non ci siamo preparati come avremmo dovuto. E questa è l'ennesima dimostrazione che abbiamo probabilmente non approfittato dei mesi in cui si doveva lavorare per prepararci all'autunno-inverno. Professor Guerra, dato che lei sta per recarsi al Comitato Tecnico Scientifico, volevo sapere la sua opinione ma anche chiederle di farsi portatore perché insomma io sono d'accordo con il professor Bassetti. La cosa più importante a questo punto è aver imparato la lezione. Abbiamo sofferto tanto, ognuno a proprio livello. Adesso ci aspettiamo davvero che alcune cose succedano e basta. Ma scherza, sono mesi che vengono ripetute le stesse cose. Credo che su questo lo schieramento di tutti i medici e di tutti quanti quelli che fanno parte del Comitato ma anche ben oltre come il collega Bassetti siano assolutamente univoche. Non mi pare che ci siano stati in qualche modo litigi come dice lei o punti di disaccordo. Credo che la questione logistica sia estremamente importante. Da quanto mi è stato detto il Governo con le Regioni hanno comunque provveduto l'approvvigionamento di svariati milioni di dosi. Quindi penso che sia soltanto un problema di distribuzione e che possa essere risolto molto rapidamente. Va bene, io la ringrazio, lascio andare, ci vediamo molto presto, buon lavoro Professor Guerra.